Grazie. 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 dire che il d'asseziente credo in corzione con le conseguen�� ciò che ciò che ciò che tiene a mezzardario se la parola anche con il progetto l'witi non lo so lo so il progetto il progetto 30% Il progetto la parola il progetto questo è caro la parola Cielo Sì 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 S ha avuto questo, ho fatto di contatto con il nostro ... 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 e gli altri Come si è un po' come un po' come un po' come un po' come la sua Grazie a tutti. 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 In 2 anni, Starbucks has got more stores in mainland China than the rest of the world combined. His goal is to be bigger than McDonald's, seeing as... Now, obviously, Chicken Soup is a brand, and we have our own little man. When I start a company, I start with a logo. So find an artist and make sure you've got a logo. Rocky, have you got a logo yet? Yes. Yeah, yeah, yeah. Then I'll see you logo, isn't it? I can't, I can't, I can't. No, imagine you're a purple logo. Do you? You got a little bite. Sorry, Rocky and Neverloat. Now, what makes a business go is your UPS, USP, Unique Selling Proposition. It's got to be seven words or less that the customer starts to have branded into their brain. Okay. Ok, il tuo nome di un'articolata, il tuo nome di un'articolata, è necessario di meno di 7, che il tuo cliente è possibile che si può registrare il tuo informe, più di 7, più di meno di più. Do you have a federal express here yet? Federal express. Federal express, it says absolutely positively must be over there night, it is? Ok, FedEx, come tui abbiamo? No. Ok, the next one is, when you want to send the very best we have Hallmark, do you have Hallmark greeting cards here? Yes, we have. Ok, it says fresh pizza delivered in 30 minutes, you may not have that, it's called, you do have Domino's, ok. Do they deliver in 30 minutes here? He said, They do? Last night Rocky and I were in traffic, and no one could have delivered anything in there. So, 昨天像這樣子塞車, 真的別人都可以, 三十分鐘內就辦到了嗎? No, no, no. Ok, good, good, good. the world's biggest book store is Amazon. 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 For every one of your companies, you need a unique selling proposition. So, ok, ma non c'è nghe di l'iiiii negoi si chi ha detto una banca fantazia ma diretta cinze basagne a più allo cosa non pensiero per renderizzazione il progettimento Sembra. Ok, tutti gli altri. E quindi bisogna chiare il quale, che bisogna vedere la sua protezione, per il quale della loro sceglia è molto明顯, anche se questo sceglia è che non è un po' altra. E le quei occhi i gatti sono gli occhi, e tutti conoscono che questo è un McDonnell. Ma inizia a un po' di occhio, il che si chiama la domanda, la domanda che si chiama il quale è un po' lì, Un po' di occhio il quale è un po' di occhio. Selle selling proposition. ok and Tom Peter said either be distinct or your business is going to be extinct distinct means special and you know it and extinct means you're dead like an dinosaur ok好 你要創造的就是要让你的品牌到底是要很独具性的 很显然独具性的就是很特别的 很闲耀的 还是一看会让这样就消失的 Blanding就是让我们自己 在大脑思维 设定就是 我的平台身上 就是唯一 你就是你一 你是唯一只有我 假设我是医生 也是只有我 能够治愈你 现在在这个美国 蛮流行盛行的针灸 就像我们在这个中国 这个针灸 现在是穴道上面 是非常有名的 你现在选的那个名字 是非常的重要的 因为这个名字 一旦选定 它跟你后面所做的结果 绝对相关 明天再跟大家来看一下 因为那必须要透过网路才能 都让大家看到 所以你必须要把你的品牌形象 现在让它很具体性的 很具体的 而且让它把你的品牌形象 创造出来 Joseph First thing tomorrow morning we make sure the internet's up and we'll show two forms of outrageousness on the internet for products OK One of the guys that's outrageous is our hero Richard Branson OK 他称之后为英雄 叫做理查 Branson And he has virgin everything 他有维基所有的东西 And I forgot to change this But he's now the most recognized brand in all of it 他现在是在英国全英国 这个品牌形象辨识率最高的 He has 400 brands that are virgin One of which you all know is the rolling stones the rock group he owns OK Rolling stones The I ain't got no satisfaction 他拥有这个人 为什么他觉得他是真的是精英 因为他有400个以上 都是非常有名气品牌的 都以virgin这个字为首的 各个公司品牌 The other night Rocky and I were talking about this The fact that Virgin owns planes And by the way he's going to make a new airplane Remember I said be number one or don't be anything He's got a new plane coming out this next year That can fly anywhere in the world in one hour It'll go at Mach 4 Do you know Mach? Mach Festima Speaks Mach Can I see it? M-A-C-H 4.5克必须是音速4倍的速度 所以他要去做一个全世界飞行速度这一块 一个小时之内可以飞去你想要去的地方 So that means you'll be able to have lunch in Taiwan And come to eat dinner in L.A. and be back in bed that night if you want OK 如果是这样的话你可以中餐在台北吃 晚餐是可以在L.A.吃 或是安心吃 然后同一天又飞回了我们家睡觉 I mean you lived in London how long ago? One time No When did you live in London? 1999 OK so you saw that he has now fixed all the trains in London that are making it work He privatized them You didn't see that OK Anyhow so he's doing soft drinks He's doing music He's doing mobile phones He's doing wines He's doing everything Including Brightwater OK他做了很多比如说这人的品牌有哪些呢 有飞机有火车有关财务上面的 有饮料的有音乐的有这个手机的 还有跟这个旅游有关系啊 跟车子有关系的 还有卖这个酒有关系的 还有跟这个出版有关系的 还有跟这个结婚了婚娘的婚纱的衣服有关系 他问我在英文面说最多他的品牌 His brand stands for value quality innovation and most call fun 比如说当初都有 那他的品牌代表的意思 他的价值是什么 他的品牌就是代表财富品质 还有创新乐趣 Now the other guy I told you about is the cheap underpants underwear officer 他说这个尼可拉斯他是这个做这个内裤内裤的那个执行者 他说全美国大概有百分之七十的小孩子都翻这个人所设计出来的内裤 那所以呢其他的品牌 A品牌 B品牌 C品牌 现在这品牌 在什么 探索 对 跟探索 My daughters will only wear Joe Boxer Underwear 他说我的女儿只穿这个人所设计跟卖的这个 And they're typical And they're typical And you know back when I grew up No one You never tell anyone what kind of underwear you're wearing Did you ever tell anyone what's her name? You never told anyone what kind of underwear you were wearing did you? You never told anyone what kind of underwear you were wearing did you? I don't mean to embarrass you it's just you're so easy there Okay so brands develop you got to define a message What message do you want with your brand? Okay 你到底呢要传递什么样的讯息在你设定这个品牌里头 And then you got to build an image 第二个呢你要创建创造你这个形象 And you market the image You market the image In other words every chicken soup book is supposed to have A what's called trade dress as you look at the book on the left hand side Like you can't see it here But yeah yeah it all has Like our chicken number one has what's called green marble And all of them are supposed to This has red marble But they're all supposed to look that way And they sort of do 这个是建立品牌的三个步骤 第一个就是你必须要传达给别人的讯息是什么 你必须要做一个定义 第二个呢你必须要建立你想要给的形象 第三个呢你必须要把这个形象mark起来 就像它有时候是红色的有时候是黄色的 And then you got to live message 第四个你要把这个这个讯息啊传递 而且让它生命力 The cliché in the street as you walk your talk Do you have a cliché like that Where you do what you say you're going to do Like what you just saw I said I do something I just did 这个意思就是说你要所说的要跟你所做的一样 你要做你所说的 你传递的讯息必须要是这样子 Anyhow 90% of your time has got to be in marketing 你必须要投资你大部分的时间90%在你的行销上面 So it's marketing selling self promotion advertising and finding new business OK 必须要投资时间90%的时间在行销上面 在销售上面还有自己在促销上面还有广告上面 而且还要找寻更多更新的事业机会商业机会 OK 有一个法则叫做七的法则 你每天做七的或是超过于七次 你做你的品牌或是服务你的顾客 或是在你的商品上面每天都给自己做超过七遍或超过七次以上 你会创建更好的结果 And you got to have giant goals and believe them OK 你必须要一个巨大的伟大的超大的一个目标 而且要相信他们这个目标 Little goals won't inspire you or anyone else 一个小小的目标不会让你有特别的费沉的力量 And write a wow of a business plan 你必须要写一个 wow的商业计划 Now when you're writing your business plan write it for one, five, ten and one hundred years up 你必须要写一年,五年,十年,一百年的你的商业计划 Here's why 为什么呢 If you and I are sitting on an airplane If you show me a picture of wow business plan It should be so good that I want to quit my business and come into your business OK 这个重点很重要 他说了 假设我现在跟你坐在飞机上面 然后你正在把你的这个 wow的商业计划 而且是有突变的给我看的话 很容易的就是看到这些 wow的商业计划 是看到这照片 很容易的我就会把我的工作资料交过去你那边 And the reason you write a hundred years forward Is that some of you are operating so below your potential That you're going to hit your hundred year goal in the next year or two OK 他说为什么要写这么长啊 就是要让你的潜能极大的激发 才能跟你的目标去做相配合 Now create events to get massive That's attraction to your brand Create events 我们必须要创造很多的这个活动 比如说演讲的活动 或是任何聚集人潮的活动 才能创造最大的注意力跟影响力在你的身上 Well we tried to feed the world Ethiopia when they were starving We created we are the world Do you guys remember that music? We are the world Yeah 我有没有听过 We are the world It was created by this guy Ten Cregan And in one month 28 days He got all the best singers in the world to sing for him free And all the money went to we are the world OK 这个叫Ten Cregan 是唱的这首歌的人 他花了不到一个月28天的时间 把全世界最棒的歌星 全部具体一起来唱这首歌 然后这些歌全部的收入 他得到这些全部的收入 奉献给这首歌去做有意义的事情 A couple singers that no one knew in that group Sting and Bruce Springsteen Went from invisible to worldwide visibility and high pay That quick in one month Bruce Springsteen and Sting You know Sting? Bruce Springsteen and Sting 本来是你没有什么任何名气的 但是在唱过这首歌之后 他的名气大增之后 还有得到人家付给他更多的钱 去唱更好的歌曲 Now the way to quick build your brand Is figure out who are the top 100 players In the business you want to be in OK 请你做一下这个搜寻 在你的这个领域里头 你要做一下搜寻 谁是在你这个领域的前100名 You carry that list with you everywhere OK 你就带着这些 你抓到了这些讯息 随身就带着它 And today because of the internet You carry the picture and the name And where that person is In a little portfolio So Cindy and I are sitting together I say Do you know Rocky Line OK 你带着这些讯息在你的身边的时候 尤其现在这个电讯 这个电 电力这些这么发达 讯息这么发达 尤其又有网路 你确实都可以把这些资料 登录下来随身带着自己 就好像你可以跟你的朋友分享 欸 你认识这个人啊 梁老师你认识吗 And somebody will know those people Once you need one They'll introduce you to all the rest OK 一旦这么做的话 把一个传递一个 一个传递一个 一个传递一个 知名度就可以这样慢慢的打开来 Back to the You have the Red Cross here Anyhow we partnered with the Red Cross You do have the Red Cross 这边有红石智慧吗 Yeah Yeah In our country the Red Cross has a million and a half emergency ready volunteers And we made a little A little itty bitty book And gave it to a million and a half volunteers And chicken soup three went from invisible to number one in one day We went number one on New York Times USA Today And all the registers because of that OK 在美国有一个叫 红石智慧的 在美国至少有150万个自愿的人 有参与这个红石智慧 于是他写了一本心灵鸡汤的书 跟这个有关系 结果没想到一天不到的时间 他马上冲到了立民 现在你需要有红石智慧的 你需要红石智慧的 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 红石智慧的 你需要红石智慧的 红石智慧的 红石智慧的 在美国至少有150万个自愿的人 有红石智慧的 红石智慧的 在美国至少有150万个自愿的人 有红石智慧的 于是他写了一本心灵鸡汤的书 跟这里有关系 结果没想到 一天不到的时间 他马上冲到了立民 我们有没有这些数字数码 呈现出来的一些 B80是免费电话 在北美的话 常常用免费 做什么一个行销的工具 所以电话上面有许多的英文字母 所以他们就用英文字母所组成 就变成E800 flowers 就是专门在卖花的 对 在美国当男的男的家人 在家人家忘记了妻子的祝福 他说 我的天哪 他招了800花 他购了200$ 但花花在家人家 他结婚了 就像是我在美国的时候 如果先生回到家 要给老婆周年庆的礼物 忘记带这个花 他赶快打这个1800的电话 给这个卖花的公司 他很快就把花送过来 花了200块钱 他的婚姻照片可以保持下去 你必须要找一个在公关行商上面打造一个比较有经验的人来帮助你 你必须要找到 I am the gatekeepers of every marketplace. The gatekeepers for us, the people that distribute books in America are Ingram. And Jack and I went down, we talked to all the people at Ingram. There are 126 people on the phone. We bought them all breakfast. We signed a book to them. We hug them. And then people would call up and say, I need three of this, ten of that, four of this. And they say, what's happened? I say, oh gosh, Mark and Jack are just here. You better read this new chicken soup book. Ok. Noi con gli nuoviamenti che hanno con gli gli nuovi professionisti Ho portato con gli nuovi movimenti Per esempio, per esempio Ciò che ha fatto un problema, da un gruppo di tutti i 100% Oggi delle persone con ibiti C'è anche tutto quello che si può fare la capacità di rede Ciò che celebri di fronte diшere i 100% e buy anche algunaير youtube e large sono fondamentali alberto perchè ti suche magna inAmerican adoro ma l'importanza ottimo da grazie 你才能去做這件事嘛 對不對 我現在要做私募欺欺 然後顧币幫你公持 那現在就要做顧币了嘛 所以就是要幫自己想一個抬頭 那剛開始我是什麼都沒有啊 沒有的時候 我的抬頭就是超級演作家 所以因為我有這個抬頭 所以我又一直往那個地方去走嘛 因為我要成超級演作家 對不對 那當我拿到目標之後 我有新的目標 就改變一個新的抬頭 所以你今天晚上把你的抬頭搶出來 好不好 好 那明天我們都用對方新的抬頭來勝負 對不對 好 可以幫自己想一個很酷的抬頭 對不對 來確認說 好不好 想一個抬頭出來嘛 對不對 行銷 銷售 還有什麼 促銷跟廣告 是不是 所以你到底這一天 你可以為了你的這個公司 去做哪些事情 你可以怎樣來做這件事情 包括你一定要花多少時間寫書 花多少時間去想策略 對不對 對不對 比如說這個 昨天這個策略長 我們的這個 超越間出版策略長 陳靖遠先生 他現在要問一個大學 他講的是什麼大學 書籍行銷大學 對不對 簡稱暢銷書大學 他是 要報名 太報名 太報名 所以 他都會很專注在發財這一塊 對不對 因為你很專注的時候 就問 然後大家就說 Focus的話 你會不會把你的什麼 聚焦 對 聚焦的能量 就越變越大 現在體質就會越來越棒 越來越多 越來越多 沒有寫啊 沒有 因為我們等一下 我們馬上製作 製作然後要留給他 所以要趕快交上來 沒有交上來 就是 如果你太晚交上來 我們已經製作完成 就加入進去囉 好不好 好 最初來讓馬根看到你的心意 這是很重要的事情 好不好 好 OK 我們來複習一下 第一天我們到底學到些什麼東西 第一天 書 書 書 還有呢 啊 不記得書書啦 書 怎麼又在複習啊 你們這集都跑出去玩 是不是 對 信力率是非常重要的 還有沒有 貢獻 貢獻是昨天 我先講的第一天 我 會 月擠 月擠 對 月擠 目標 還有呢 共享版 共享版 嗯 啊 發財 發財 那是昨天 你放完筆記本在說吧 想丟點各種方式 還有冰想 影響 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 커�Y 對 а 有 Vlog. 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 Mi amazon. Sì. La media della nostra cultura. Wow. A movie che era di film. Ah. Non ma si ce te proseguire con la voce? No. No. Una. La notica alla voce. Tu te abrani con la voce. No. La voce. Ramblais con la voce. No. No. L'argué. Tu éta…. Tu es. Tu enti. Tu es. Tu enti. quindi per oggi si io ho? E' l'ho? E' l'ho? E' l'ho? E' l'ho? E' l'ho? E' l'ho? 8G? 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 7G? 8G? 8G? Q3? Q4? 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 C'è l'Università. C'è quello che è stato fatto, è stato fatto, è stato fatto, è stato fatto. E' un'anno stesso a ciò che avevano il fatto che c'è un'estero Quindi come i tuoi knifo di trattato in quanto riguarda la giornata in quanto riguarda l'espoirano Ma ora è un' sempre che gli uomini Poi anche quello che aveva detto è l'abbiamo come una proposta diệ regret A quale ieri era sempre un'ultima sulla base delle evenze dove in grado gli altri che avevano questi stati Romano hanno già parlato di tutto il compleitto e impolti si è presentato ma nero ricordi ho correspondi ora ora che l'obbligo è che ciò che tratta di tutti i luoghi non si chiama il gioco si chiama il gioco tempo lo siano mentre lo siano con un gioco ma anche il gioco ciò che suono non ciò che dovrò non si chiama il gioco non lo siano ma non è il segno ma si non è molto ma Che non bisogna beadle dentro. Quindi la loro anche iniziale hanno a bene la loro pericolazione. Ma sono soli molto della loro pericolazione, Rate poi diverse il quattro pericolazione. Siempre si peoplesi collate l'unità della loro pericolazione, e quindi le loro pericolation. La loro pericolation viene ancora adicolazione della loro pericolation, ma si seguono ieri dell'articolazione di vita, ma anche se occidentale nel loro più barbine, ma anche più abstrano delle loro pericolation. Quindi la loro pericolation iniziale. Cosa un'accessione? Questa è un'accessione di una pericolation, con il fatto che non mi interesse e non c'està appartenenza ma non c'està appartenenza il fatto che non esiste io rispare la domanda quando hai pensato tu chiedi ho chiaro non si chiedi ho chi non lo chiedi quando ho pensato tu non ho chinito perché avrò di tutto se come lo chiedi che dà vedere non si vuoi che si parlo deviamo Mi sono già bisogno, ho bisogno di affisciare Fisciare il fatto che ci sono a fare Si fa, non ciò che ci sono? Fisciare il fatto che ci sono in giudizioni Non so se non si non si non si non si non si non si chiede C'era un bambino. Ci sono presi di affinazione E si si Ma abbiamo visto una cosa in questo tipo di un'evento C'è un'evento che si è un'evento Un'evento che si è un'evento C'è un'evento che si è un'evento E' un'evento che non si è un'evento non posso fare 3,000万 non posso fare 3,000万 l'ho ho la exa e l'ho non posso fare 3,000万 è una cosa molto complicata questo è un tipo di fatto di faro si stai voglia di faro quindi si pensava di faro eccollo di che cosa hai fatto? Quindi, cosa stagia di faro èría si stagia si stagia di faro si sembra cosa Noi lo consigliamo Svegine I svegine 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 Voi Il C'è 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 Se tutti qui iniziò che sta studiando il teneo Hai dicendo un po' di lavoro un po' di un po' di worko ¿cki che soy un po' di lavoro? Un po' di un po' di lavoro Ho tu stai volendo il tuo padre Perché? Hai to' di una immerona Lui dentro di questa persona Lui di una cosa Ma sei la domani Sì 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 Perché io l'ho guardo Questa stai apprezzando C'è stato un po' di più, è stato un po' di più. e chai lunghi il progetto, la aha non è un po' più difficile, uno è un po' più grande e ti ho ho fatto guarda dell'케tono che dicevoca, mi è un po' più grande e anche più grande ci ho anche iniziato molto, per esempio ha mi ha messo la persona di essere lo dono con questo sui il motivo, ma la persona non podemos ma la gente non ha messo la persona, non le ho con nosi ed è una volta che ti mangiassano, ti mangiore, intorno all'isci 10 anni da 10 anni da con 10 anni da con un uomo Quindi, io vorrei darei una cosa Lo foresee, se lo faccio di una cosa Se lo faccio aiutato un po' di più Ho fatto che non ho capito non ho capito Ho visto che non ho capito Tanto ho fatto questo, ho fatto che non ho capito Ho ho fatto in un po' di più Ho l'impressione che non hai più ombra Toll'ho più ombra Ho fatto in un po' di più Noi ho faccio di più E questo è una cosa che ho mai Ho ho fatto un po' di più in questo modo e poi non lo so lo so istrano si è iniziato a chiusura non ci sono in questo modo tutto il tempo questo è un po' non so non so in questo modo è stata una buona ma ma io vorrei che i suoi di loro mettere in questo mondo ho spero di chiunque poi ci sono confianti ora mi senti conoscitli è stato un risultato e non mi senti sono stato spostato questo è stato molto molto divertente non è il risultato quindi ciò che ciò che vi ho l'impianto e dopo l'ultimo le compiere al genere e dopo la sua parte la sua parte per la sua parte per la sua parte con la parte e poi la sua parte abbiamo avuto delle sue che la loro lingue si avremmo avanti adesso abbiamo di nuovo quindi abbiamo fatto un pass non c'è quello che sia daるà cosa che hai composta se poi ciò che hai composta è il mio significato cosa che non c'è voglio che ho incontro perché non c'è perché ono trasmesso e ma seconda sicuramente con le persone minuto ma di Il suo attore il nostro corpo è un processo C'è quello che hanno corso tu farò beautiful tu aglio migrafici di te variabli altri Au reso cura C'è la cura di questo periodo Mio ci ha fatto Ha fatto C'è quello che hanno fatto D'astron e poi Lo faccio Immagini Basta l'imitario La mia grafica C'è un stesso Ha fatto E' un po' un po' un po' un po' un po' 얘는 e' un po' d'acforgui. E' un po' est ? E' un po' un po' un po'. E' un po' d'acforgui. mi hai preso, voi non ringe. Quindi, mi ho pensato solo con loro. Mazza, la nostra sensazione di cambiamento, il ha un cambio d'amore veloci. Ma che fai, in il nero è testo? Ma che fai, non rimane, ho fatto, non mi guarda molto, ma che è un problema. Ma che è per il progetto il progetto un progetto? te pregoi il progetto? Noi, non mi guarda, non mi guarda! Noi, e sempre chiamo! Noi, non mi guarda. Ma che è sempre me guarda? Maggio, è che che questa cosa è stata, la professione è stata una ragazza così facile Il nostro parla è un'ottimba La professione è stata stata super facile Ci sono dei due giorni in tuttiايeducali Ghi, tutti permettono della professione klimatano della professione Un'ottimba guarda è l'ottimba Siamo adesso anche dopo l'ottimba è stato realizzato Allora si realizzate, come si dice, ma continua felicitando senza sapere conspire un paese e poi gli diritti sc overlooked quindi e la classica e poi il processo sui di questo in questo posto qui ne sono l'hanno è il motivo l'hanno è più bello è molto tutto l'hanno ha fatto l'ho è ha l'ho i e gli sono ragazzi che pensi che senti così non ti senti di camminare questa так dow poderia சere ee, wyposa che è stato in itself io sono una gente che ho roster in sentirsi come mi lotta, sono una quando fa di un bueno mi prossimo miuria lubbinarearon con tutto questo poi in unainted si sente, v� forse a quando guardi le vabbiamo mi Garda è sé la sua e così vabbè mi ricordo più semplice perché mi hai fatto da questa rota piatta mi ha fatto per aver guardato questo canto da parte delle ore e che c'è da parte ma parola migliore non buono con la linea ma parola che la quita anche la quinta una compara che c'è una visicione è una compara che è classica ma è una compara che c'è certo che c'è che c'è poi io era di in una cosa è cosa b E poi di posto della serie. quindi qua che stiavo si pensi un sorrisco dentro le persone non puoi una cosa più attraverso in cui abbiamo senza pensi e poi abbiamo parlato di ciò ciò che anche qui stessa e poi gioca a tutti questi giorni nei casi di circa il loro ragazzi, comunque il loro dobbiamo anche noi sono facili e quindi l'evere